Stiamo andando a vedere la ruota panoramica barese che l'hanno inaugurata ieri che oggi è San Nicola il 6 dicembre e quindi praticamente questa sera le feste natalizie iniziano praticamente a questo, cioè oggi le feste natalizie e quindi noi stiamo andando a vedere questo nuovo, ma guardate che bellissima sembra di stare a Londra, una nuova curiosità che praticamente il sindaco di Bari ci ha offerto, speriamo che tutto vada bene guardate che bello Bari di notte, guardate un po' questo è il lungomare più bello del mondo Speriamo che la pila funzioni e regga fino a quando almeno arriviamo sotto la ruota Continuo a dire e a ripetere che il lungomare di Bari è uno dei più belli che possono esistere Guardate la ruota che forse da lontano non si riesce a vedere bene Vedete Bari tutta il luminato Vedete Bari tutta il luminato Dicono che da sopra alla ruota si possa godere un panorama bellissimo anche se ormai questa è la seconda serata e molta gente non è ancora andata però dicono che si comincia a vedere abbastanza bene fino a ora su youtube ho visto poche riprese di questa ruota mi auguro che vi piacerà perché è senz'altro la prima credo ripresa fatta quest'ora con una telecamera quando tornerò a casa la metterò e quindi potranno vedere parecchi baresi ai quali verrà tanta nostalgia guardate un po' che bello un gomano stiamo avvicinandoci guardate che bello guardate un po' guardate un po' che bello 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 che mi pare Questo è l'albergo delle Nazioni dove è stato fatto il film Polvere di Stelle Ricordo che io ero in questo posto quando si giravano le scene Ma beh, questo significa che sono vecchio Che ve ne sembra? Guardate, non vi sembra uno spettacolo bellissimo? Che te ne pare? Enorme! Hai visto? Sono cambiati come posso lasciare più via Non è come l'altra di Toravaggio Noi voi metti perché faccio un po' di Toravaggio Noi voi metti perché faccio un po' di Toravaggio Inoltre pari 4 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 19 20 21 22 22 22 23 23 24 24 32 24 24 24 25 25 32 33 33 Mancano 10 secondi, questa ripresa finirà e riprenderà un'altra, a presto.